Il turismo non è rappresentato solo dalle persone che visitano un paese, ci sono infatti milioni di ambasciatori della Puglia nel mondo, sono gli emigranti e i loro discendenti. Quanto sono importanti lo ha stabilito uno studio commissionato da Puglia Promozione, che ha puntato e che ha sottolineato quanto il turismo delle radici e i loro legami affettivi siano importanti. Ascoltiamo i dati di questo studio. Sono dei turisti un po' sui generis, sì vorranno fare un po' di turismo balneare, turismo culturale, ma la Puglia la conoscono già, vogliono qualcosa di diverso, vogliono riscoprire le proprie origini. Per esempio notevole interesse hanno per i prodotti pugliesi e quindi questo potrebbe essere un viattico notevole per le imprese pugliesi per l'esportazione dei loro prodotti, perché non possiamo pretendere che se le portino ovviamente in valigia, quindi ci potrebbe essere un discorso molto interessante per quanto riguarda le imprese produttrici pugliesi. Abbiamo anche visto che in alcuni mercati, quelli cosiddetti emergenti in cui i flussi turistici devono ancora crescere, la Puglia ha bisogno di farsi conoscere, ha bisogno di andare a consolidare la sua immagine che è ancora sfocata.